Mi chiamo Massimo L'Alto Vella e sono allievo del Consigliatore dell'Utrizia Italiana nella classe del maestro Enrico Cavone. Ho voluto realizzare questo video per ringraziare il Consigliatore per aver istituito il Fondo di Sondabilità che mi ha consentito e permesso di sostenermi in questi mesi di inattività lavorativa e perché voglio ringraziare tutti coloro che hanno finanziato e che finanzeranno il fondo. Suoerò per voi la cadenza da un'altra concerto per il concerto di Litterdorf. L'alto Vella L'alto Vella L'alto Vella L'alto Vella L'alto Vella L'alto Vella